Buongiorno, Rossano Biancalani Buongiorno, Rossano, 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 Rossano Buongiorno, Rossano, 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 Rossano. He 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 も We asked One refer to features, Можно andr29. da molto leggero scegliere, a molto pesante, sintetica, metrile sticke, con tutti gli altri tipi di fabriamo. Un altro modello che stiamo mostrando è il modello che explica l'Aquaria. È una macchina per continuamente lavare la fabriamo in open width. L'Aquaria utilizza il stesso principio dell'Aero24, che è il transporte di fabriamo con un jet. Con questa macchina siamo capiti di fare, di fare, di fare, e fare, di 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 fare. È una macchina tradizionale, che è arrivata in una macchina, ma è usata il stesso principio dell'Aero24. è che la fabbrica va avanti e avanti all'interno della macchina ma in questo caso, nel caso dell'Aquaria, la fabbrica è lavata e passa a passare all'interno dell'energia e all'interno di acqua con qualsiasi necessità, per esempio, con gli enzimi, con i chimici, con la sopa e anche una macchina molto versatile. Sì, le nostre performance per l'anno scorso è stato molto satisfatto soprattutto per l'exporto La nostra firma exporta circa 95% della sua turn over e questo anno è ancora molto satisfatto anche se abbiamo avuto alcuni cambiamenti alcuni cambiamenti nel mercato della Cina mentre, per esempio, è molto interessante il mercato in India o in Indonesia e è anche aumentata la vendita nel nostro paese, in Italia Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!